Sì, sì, prendi un portaggino perché guardo oggi proprio un quadro. Cosa dicono queste cose? Andiamo a fare la terapia, 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 adesso andiamo, devo solo guardare qua per prendere bene la mira, perché com'è una mira! Ma c'era un po' sempre una lira, questa che abbiamo qui, adesso ho proprio tre, vedete? sapete cosa facciamo noi adesso? ci svegliamo faccio mitichissime cos'è mangiato ieri? buonanotte buonanotte vuoi chiedermi a te vedo un po' con tu e sopra andò ma perché è vero ma è un po' con te siete iscritti da quella terapia che ti importa come guarda allora lascio il micro siete iscritti aggiuntori iscritti in canasta per nulla ma non ci vado la cura non lo siamo mica a casa mia se stiamo qui proprio a ferola no ma perché non fuori ci siamo ci sono un po' come fare no 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 aspetta se vai giù aspetta se vai giù aspetta ti prendo il giornale poi dopo ci siamo tutti va bene allora allora io parlo con l'epocrisi eh 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 Regina si vede eh ci sono crisi ma proprio la riflessione ma come fai che c'è ancora tanto da dare io allora mattina sconsami eh sconsami bene quando andrai in pensione ci penserà a brunetta a riempire tutti i tuoi voti dai perché la pensione sarà un miraggio ah tanti per un viaggio tanti per un paio ma no non mi fa panna no ma non mi fa l'aula ma non mi fa fermi guardi vieni dato vieni ah vieni vieni E' bravo! E' bravo! E' bravo! E' bravo! Perchè le belle carine? Telefinto, dove sono? Ah, perfinto, faccia mica troppo sfirtuoso! E voi sa, ce lo tiriamo noi sono quelle belle carine e quelle infermiere. Chi vuole che faccia questa professione, eh? Cosa dice lei? Dei turni massacranti, siamo sempre a lavorare, Natale, Marco... Le ragazze sappiano quello che lo fa, le ragazze? Eh, le ho dico io fanno solo le belle Se è sempre a me le scappettine per la mano, non devo... Look, arriendo a fare le terdate, dite, 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 dite! Dai ragazzo, venga, non è proprio una pantena, eh? Allora... Così, già, bravo! Dai, dai, dai colpa, Certo, dite, sanno anche pure i postini perché... Allora, un po' di storia? Ecco... Questa è blu, che fa l'impacto, capite, cosa che lo so, le manatriciare, cosa che è l'idro, le parambiolette, c'è perché, e la figura che sono tutte mie se mi dici, ma lei potete? Eh, ecco, facciamo l'impacto, guardate, tutto va bene. Guardi, se non siete, se non siete, dalle qualcosa, mi dici, sa cosa facciamo? Io e lei adesso andiamo in palestra. Ah, ok! 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 Ok, appara, tu puoi, ti sono un pozzo, ciao! Qu 1939!